a fede di finale seguità nessuno dei due sensi può essere rappresentato in visita inferiore a paranza per certo un video non lo so perché penso che ci sarà un casino adesso non lo so non lo so collega ci siamo dai sta votando loro sì vero dichiaro che non la votazione la camera respinge non lo so non lo so non lo so non lo so siamo vinto vanty rossi comunque vanty rossi di seconda parte ma che parte si vanty rossi vanty rossi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.